creazione percezione 4 punto f attraverso francesca r 7 gennaio 2024 a cura di vb e laura nova domanda ma nel momento in cui quello che desideriamo ha una vibrazione diversa da quella dell'assoluto michelle come fa ad avere una vibrazione diversa da quella dell'assoluto l'assoluto è il tutto nell'accezione positiva nell'accezione negativa in qualunque possibile immaginaria impensabile trasformazione e presenza tu voglia manifestarlo non può esistere niente che sia al di fuori dell'assoluto perché niente al di fuori dell'assoluto è assoluto comprendi cosa sto dicendo l'assoluto è il tutto è il contrario di tutto in tutte le sue possibili manifestazioni introduco un argomento di cui parleremo almeno tra due anni perché è molto complesso visto che è un argomento nuovo 29 minuti e 8 secondi avete notato che spesso dico il tutto è il contrario del tutto parliamo dei piani esistenziali del processo evolutivo dell'essere del processo del divenire di entità che diviene essere abbiamo già spiegato che divenire non vuol dire trasformarsi ma vuol dire riconoscersi che la parola più similare è chiaro ma esistendo il tutto è il contrario del tutto c'è anche il processo dei piani dell'involuzione dobbiamo parlare prima o poi anche dei piani dei sottopiani e chiamiamoli così che sono i piani del divenire nell'accezione della negatività quindi del divenire ego questo è un argomento nuovo ma molto complesso ma ne parleremo più avanti incominciate a pensare che esistano il processo evolutivo va facciamo un esempio più classico verso l'alto il processo involutivo va verso il basso in alto facciamo la classica distinzione luce bene in basso oscurità male esistono piani di esistenza da una parte e piani di esistenza dall'altra che non sono uno il contrario dell'altro ma solo il divenire e di tutte le forme possibili e non presenti nell'assoluto compresa la loro differenza domanda ma perché dobbiamo fare tutta questa fatica evolutiva michelle perché tutta questa bellezza evolutiva è nel conoscere che si è tutto tutti voi rappresentate chi non sa ancora di essere ma che manifesta il tutto manifesta tutto il bene tutto il male tutto l'io e tutto il non io ma nel proprio cammino nel momento in cui ci si accosta al divenire quando dall'estremo basso del proprio ego quindi nella sua massima espansione questo ego pian piano si assottiglia fino a un punto che non esiste più solo l'ego esiste anche il non ego e a quel punto inizia il classico processo del divenire di cui voi siete a conoscenze domanda anche voi fate la differenza tra l'io e l'ego oppure chiamate tutto ego 35 minuti michelle in questo momento non ho fatto differenza tra io ed ego ho chiamato tutto ego esiste la differenza tra io ed ego volevo semplificare il discorso perché per aprirvi alla possibilità conoscitiva introduciamo gli argomenti piano piano adesso vi è stato presentato il processo del divenire da un certo punto in poi ed è stato tralasciato il prima non in questo momento ma fra un anno almeno dei vostri vi presenteremo i piani che portano alla congiunzione di quello che voi già conoscete il processo di evoluzione è sempre a senso unico e da non conoscenza a conoscenza